Bene, allora buongiorno, il tema di oggi stiamo sempre parlando della programmazione orientata agli oggetti, Object Oriented Programming. Oggi vediamo da vicino quello che è stato una delle potenzialità dell'Object Oriented Programming che ne hanno determinato il suo successo. In particolare parliamo quindi della possibilità delle facilitazioni che l'Object Oriented Programming ha introdotto riguardo alla possibilità di poter riutilizzare il codice già in essere per poter sviluppare il nuovo codice. Quindi non si tratta di richiamare il codice già in essere per sviluppare il nuovo codice, per sviluppare nuove funzionalità, che è il concetto delle librerie. Qui si tratta proprio di prendere il codice che già c'è e farlo diventare parte integrante del nuovo codice. Chiaramente ogni facilitazione in questa direzione faciliterà il sviluppo del codice e lo renderà anche più, magari forse un po' meno efficiente. Forse. Perché non è detto che il nuovo codice debba per forza utilizzare il vecchio codice. Magari utilizzare il vecchio codice significa portarsi dietro nel tempo, negli anni, magari anche delle pesantezze, delle lentezze. Hai visto mai? Forse non è il modo migliore per produrre il codice efficiente, però è uno dei modi migliori per sviluppare in maniera efficace e quindi riducendo i costi di sviluppo del codice e anche per organizzare il codice in maniera comprensibile, più facile da leggere. Riutilizzo del codice. Allora, l'obgetto re-enter programming sostanzialmente ci consente di poter facilmente riutilizzare il codice già prodotto in due modi. Un primo modo è semplicemente il concetto di mettere dentro una classe una classe che già c'era. Ma questo è un concetto che conosciamo già. Ricorda il concetto quando per esempio noi avevamo una struttura che descrive ad esempio un impiegato, i dati di un impiegato e quindi gli attributi di un impiegato. Dentro c'era per esempio una sezione che riguardava la sua data di nascita e dentro la struttura impiegato c'era nascita che era un campo di tipo a sua volta struttura. E quindi la struttura data di nascita diventava parte integrante della struttura impiegato. E qui è un concetto simile. Cioè una classe già prodotta che ci è servita per definire una classe di oggetti la possiamo riutilizzare come parte integrante di una nuova classe. E quindi sostanzialmente riutilizziamo il codice che già c'era. Questo modo di riutilizzare il codice è interessante ma non presenta grandi novità dal punto di vista concettuale. Per cui ve la lascio un approfondimento personale. Va bene? Vi divertirete voi a ragionare su questa opportunità. Viceversa quello che ha invece caratterizzato in maniera molto profonda l'Object Oriental Programming è la possibilità di poter derivare classi da altre che ci sono. Già. Con un concetto che verrà per chi farà intelligenza artificiale lo ritroverete nel secondo anno della magistrale. con un concetto che appartiene proprio all'organizzazione del pensiero umano al fatto che noi siamo orientati a creare delle tassonomie di oggetti e di entità. Mi riferisco al fatto facciamo un esempio parlavo prima della classe impiegato che potrebbe avere dentro una classe data data di Nash la classe impiegato però potrebbe essa stessa derivare concettualmente da una classe più generica che è la classe delle persone degli esseri umani perché ogni impiegato è un essere umano. Allora supponiamo che noi abbiamo definito il concetto di essere umano e quali sono gli attributi e le funzionalità di un generico essere umano l'impiegato che sarà un particolare essere umano sarà caratterizzato da tutti gli attributi e tutte le funzionalità della persona dell'essere umano più altre che sono specifiche del lavoro che fa e quindi potremmo dire che se noi avessimo già concettualizzato che cos'è un essere umano la classe degli esseri umani potremmo derivare dalla classe degli impiegati come la classe degli imprenditori come la classe dei professionisti come la classe degli studenti come la classe dei disoccupati eccetera 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 questo arco qui che ho rappresentato in intelligenza artificiale si chiama IS-HEI è UN un impiegato è una persona un imprenditore è una persona qui potremmo avere imbarcazione e qui potremmo avere una barca a vela è un'imbarcazione una barca a motore è un'imbarcazione si intende che la classe derivata eredita tutti gli attributi e tutti i metodi della classe base e questo concetto di eredità eredità è quello che in questo caso ci consente di riutilizzare il codice perché praticamente abbiamo definito una nuova classe però non siamo ripartiti da zero ridefinendo cose che avevamo già definito riutilizziamo attributi e funzionalità cioè metodi che avevamo già definito per la classe più generica allora la classe più generica si chiamerà classe base la classe più specifica si chiama classe derivata questo giallino che ho messo qui sta a ricordare che le caratteristiche della classe base sono tutte ereditate dalla classe derivata tutto sommato non è che sono di simili concetti come vedete semplicemente che il secondo è un po' più delicato e necessita di un trattamento specifico che è l'argomento della lezione di oggi allora quindi parliamo delle classi derivate non le classi annidate delle classi derivate e quindi concettualmente che cosa abbiamo quello che ho appena detto abbiamo per esempio che supponiamo di stare in un contesto di programmazione in un contesto di geometria per esempio siamo in una geometria 2D e abbiamo un concetto di forma generica una figura geometrica generica che è caratterizzata da alcune funzionalità in un contesto di una grafica 2D o 3D adesso non è significativo specificare il fatto che noi la possiamo disegnare a schermo e quindi avremo un metodo per disegnarla questa figura un metodo per cancellarla un metodo per spostarla un metodo per prelevare un colore o definire un colore per la figura stessa tutti questi metodi fanno parte della classe generica figura da questa classe dopo che noi abbiamo lavorato un mese a definire a implementare queste funzionalità questi metodi sto scherzando ma manco tanto io quel mese di lavoro se a un certo punto la mia applicazione deve andare oltre e quindi creare delle classi più specifiche perché mi si sta chiarendo il lavoro e quindi devo ho capito come implementare degli oggetti più specifici quando ho capito che questi oggetti più specifici comunque sono una sottoclasse di un'altra classe costituiranno una sottoclasse per esempio ho capito che mi serve a disegnare dei cerchi o dei quadrati o dei triangoli ebbene definirò automatica definirò delle classi derivate di figura geometrica generica ciascuna di queste qui automaticamente andrò ad ereditare sia gli attributi che qui in figura non sono segnati che i metodi della classe più generica questo è il concetto che l'avevo già detto lo ripetiamo adesso vediamo come viene implementato in C++ implementato il concetto di definire una classe derivata da un'altra e poi dovremo vedere la parte un po' delicata e come funzioneranno i costruttori della classe derivata allora la classe derivata ho detto che eredita gli attributi e metodi della classe basse già esistente questo spero che sia chiaro come concetto come si scrive in C cioè come si definisce in C una classe derivata si fa così class e poi il nome della classe derivata come una normale classe poi ci dovete mettere due punti e dovete specificare qui questo verde la classe base da cui la derivata deriva fino a qui chiarissimo prima però di definire la classe base da cui deriva qui fra parentesi quadri vuol dire che ci può stare o ci può non stare dovreste specificare se volete il tipo di ereditarietà e ci sono tre tipologie di ereditarietà in C++ che corrispondono ai tre specificatori d'accesso che abbiamo già visto per le classi per attributi e medi delle classi nel senso che hanno lo stesso nome public private e protected questo protected di cui l'altra volta non abbiamo parlato però in realtà qui gli stessi nomi sono utilizzati per davvero credo che forse era meglio utilizzare altri nomi perché si fa un po' di confusione fra public private e protected in quanto specificatore di accesso ai membri quindi attributi e metodi di una classe e gli stessi tre nomi che però specificano un tipo di ereditarietà forse 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 aver fatto avuto utilizzato gli stessi nomi non facilita la chiarezza di questo C++ in ogni caso questa specifica di ereditarietà che ancora non sapete cosa significhi è importante voglio dirvi che ci può stare o ci può non stare se non ce la mettete si intende questa specifica di ereditarietà è private dopodiché andate a definire gli attributi della classe derivata e i metodi della classe derivata a questo punto la classe derivata che metodi che attributi avrà avrà gli attributi suoi non si frede niente la classe derivata avrà gli attributi suoi quelli che sono specificati dentro più quelli della classe base e che metodi avrà i suoi più quelli della classe base quindi un concetto importante è che la classe derivata non può annullare attributi o metodi della classe base li può solo ereditare poi parleremo di questo a intelligenza artificiale se ci rivedremo un giorno fino a qui è tutto abbastanza semplice è chiaro credo anche memorizzabile non c'è niente di particolarmente difficile per mobilizzare il modo in cui si definisce una classe derivata da un'altra facciamo degli esempi supponiamo che io ho lavorato a definire una classe pubblicazione e ho detto che questa classe pubblicazione ha due metodi pubblici metti dentro l'editore e inserisci la data della pubblicazione e poi c'è degli attributi privati una stringa per specificare l'editore e un unsigned per la data è solamente un bruttissimo esempio che però serve per chiarire il concetto di classe derivata poi da questa pubblicazione io a un certo punto voglio derivare due classi più specifiche una classe rivista e una classe libro allora come posso scriverlo in C? scrivo classe rivista due punti deriva da pubblicazione il modo in cui derivo è public potevo metterci anche private ci potevo mettere anche protected ci metto public devo ancora spiegare cosa significa poi dentro nel corpo della classe derivata ci metto metodi pubblici e metodi privati della classe derivata quindi inserire tiratura inserire venduto perché non l'ho messo in pubblicazione perché è una funzionalità questo metodo qui inserire tiratura che è specifico di una rivista e non di una pubblicazione generica non lo so ma esatto grazie per la domanda quando ho detto che la classe derivata eredita gli attributi e i metodi della classe base significa proprio quello che ha detto lei che io posso scrivere rivista punto inserire editore in tal caso parte il metodo della classe base applicata all'oggetto della classe derivata in pratica è come se io li avessi replicati i metodi ma non ho bisogno di replicarli in quanto che li ho ereditati della classe base fino a qui torno a dire niente di particolarmente delicato tutto sommato va abbastanza liscio il concetto poi se voglio definire la classe libro quando mi accorgo che tutti i libri sono pubblicazioni come tutte le riviste sono pubblicazioni questo è il concetto che dovete avere bene chiaro in mente che ogni oggetto della classe derivata nella testa del programmatore chiaramente lui deve chiarirsi ma ogni oggetto di questa classe che sto facendo sarà anche oggetto di quell'altra se sei sicuro di questo allora definisci una classe derivata basta che ci sia un oggetto rivista che tu non lo puoi caratterizzare come oggetto pubblicazione allora non potresti considerare la classe rivista come una sottoclasse di pubblicazione perché ci sarebbe un controesempio un oggetto che che non potrebbe essere classificato come rivista a quel punto perché sarebbe rivista ma non pubblicazione allora i tipi di ereditarietà abbiamo detto public protected e private a cosa servono servono a specificare come saranno ereditati dalla classe derivata i membri della classe base cioè con quali specifiche di accesso se io eredito in modalità public come per esempio in questo esempio che abbiamo appena visto questo vuol dire che le classi derivate rivista e libro erediteranno i metodi pubblici della della classe base in questo caso tutti e due sono pubblici come pubblici cioè saranno pubblici anche nella classe derivata ma i membri privati della classe base saranno essendo privati della classe base sono inaccessibili anche alla classe derivata cioè io non potrei dalla classe derivata chiamare un metodo della classe base se nella classe base questo metodo è privato perché se è privato è privato della classe base io anche nella classe derivata non lo posso utilizzare mentre invece ed ecco a cosa serviva la specifica di accesso protetta se io certi membri della classe base invece che specificarli privati li avessi specificati protected questo avrebbe fatto sì che nella classe derivata cioè questo fasi che nella classe derivata se la derivazione è di tipo pubblico saranno effettivamente utilizzabili e saranno sotto la specifica accesso protected perché se è pubblico è pubblico e lo vedi dopo nella derivabilità successiva se pubblico se una specifica un metodo è pubblico ereditato in maniera pubblica diventerà pubblico se un metodo era protetto eredito in maniera pubblica rimane protetto la differenza c'è nella riga successiva di questa tabella quando io specifico una metodologia di un tipo di ereditarietà protected anzi nelle prossime due perché se la modalità è protected i metodi pubblici vengono della classe base diventano protetti nella classe derivata e i metodi protetti rimangono protetti i privati non sono comunque accessibili se da ultimo il tipo di ereditarietà è specificato come privato questo fa sì che diventino privati alla classe derivata sia i metodi pubblici che i metodi protetti della classe base adesso questo è lo specchietto ripirogativo non può essere del tutto chiaro perché la la necessità di specificare i tipo di ereditarietà e distingue su questi tre livelli sarà chiaro piano piano quando cominceremo a farci degli esempi uno lo facciamo oggi per cominciare a lavorarci però questo è lo specchietto ripirogativo che probabilmente avrete bisogno di riguardare ogni tanto per capire meglio come funziona come si eredita la specifica di accesso a seconda del tipo di ereditarietà in pratica posso dire questo che se io in una classe allora se io in una classe so che non deriverò mai niente da quella classe non c'è senso che utilizzi la specifica di accesso protected come abbiamo visto negli esempi di lunedì la specifica di accesso protected serve solo se io penso che da questa classe ne potranno derivare altre allora i membri della classe base che avrei voluto specificarli come privati invece che specificarli come privati se voglio che siano inaccessibili dal client dalla classe dall'applicazione client ma siano accessibili alle classi derivate io li metto sotto protected invece che sotto private questa rimarranno sempre protected nella linea di derivazione ereditaria fino a quando a un certo punto ci sarà un'ereditarietà privata perché quando l'ereditarietà alla fine è privata anche quei protected diventeranno privati bene adesso non è che sia del tutto comprensibile quello che sto dicendo ripeto però l'ho dovuto dire perché bisognava che specificassi a cosa servivano questi tipi di ereditarietà ma piano piano tornandoci sopra sarà tutto un po' più chiaro quindi ripeto un po' le cose importanti public è il tipo di ereditarietà più utilizzato ma non è quello per default attenzione se non lo specificate non è public ma è private allora siccome neanche una classe derivata può accedere a metodi di attributi privati della sua classe base per occultarli la classe base sarebbe opportuno che li metta nella specifica protected invece che private se è protetto il client non ci può accedere come se fosse privato ma la classe derivata sì è protetto nel senso che voglio che i miei figli usino queste funzionalità gli altri no non sarà accessibile quell'attributo o quel metodo né dall'applicazione di cliente né da altre classi se è protetto come anche se fosse privato ma se è protetto dalle classi viglio è accessibile e questo era il credito dei lunedì quando avevo detto protected non vi posso dire a cosa serve perché protected serve solo nel caso di classe eredità derivata allora se l'eredità è pubblica comunque gli elementi pubblici si ereditano come pubblici e gli elementi protetti come protetti se la classe è protetta se l'ereditarietà è protetta invece gli elementi pubblici si ereditano come pubblici ma gli elementi protetti no scusa gli elementi protetti diventano protetti ma gli elementi pubblici diventano protetti con l'ereditarietà protetta se poi a un certo punto ci mettiamo l'ereditarietà privata questo praticamente chiude tutto perché con l'ereditarietà privata che è quello per default cosa succede? succede che l'utente della classe derivata non ha accesso a alcun elemento della classe base avrà accesso solo agli elementi della classe derivata mediante i metodi della classe derivata i membri pubblici e protetti della classe base diventano membri privati della classe derivata ed è questa quella per default l'ereditarietà privata occulta la classe base all'utente perché sia possibile cambiare l'implementazione della classe base o addirittura eliminarla del tutto senza richiedere alcuna modifica all'utente dell'interfaccia della classe derivata cioè l'utente di una classe derivata che eredita come private dalla classe base non ha alcun accesso alla classe base ha accesso solo alla classe derivata l'utente della classe derivata il che significa che io potrei anche eliminare la classe base l'applicazione di quello che usa la classe derivata continua a girare ecco come diventa un po' tricky direbbero gli inglesi la questione della ereditarietà nella programmazione orientata agli oggetti adesso cominceremo a fare quando faremo l'esempio un po' comincerete a digerire questi concetti e la cosa un pochetto ovviamente più delicata ve lo dico subito è proprio il funzionamento dei costruttori per le classi derivate e cioè la classe base ha il suo costruttore la classe derivata ha il suo costruttore e come si definisce il costruttore di una classe derivata beh per cercare di capire come come si definisce e come mai la sintesi del C plus plus è così articolata come stiamo per vedere dobbiamo avere in mente questo concetto chiaro quando io vado a definire un oggetto della classe derivata bisogna che innanzitutto venga definito un oggetto della classe base di cui l'oggetto della classe derivata sarà un'ulteriore specifica quindi quando io definisco un oggetto di una classe derivata per esempio impiegato x supponendo che la classe impiegato derivi da una classe persona quando io scrivo impiegato x punto e virgola genero un oggetto x della classe impiegato ma la classe impiegato è una classe derivata della classe persona e quindi in pratica in questo momento io devo definire innanzitutto un oggetto della classe persona con tanto di attributi e metodi e quindi deve partire il costruttore della classe di base per crearlo e inizializzare gli attributi della classe base e subito dopo attaccato chiaramente ma dopo attaccato concettualmente ma anche dopo immediatamente dopo parte il costruttore della classe derivata che va ad aggiungere all'oggetto base gli attributi e metodi specifici dell'oggetto derivato dall'oggetto base quindi prima deve partire il costruttore della classe base e poi parte il costruttore della classe derivata quando io definisco un oggetto della classe derivata facciamo un esempio schematico proprio si vede il ble si vede non si vede vero? allora qui abbiamo due classi una classe b con 1 e una classe b2 che sono due classi base e ci hanno un costruttore a testa b1 che non fa altro che non è una classe questa è una sciocchezza insomma comunque formalmente una classe b1 che non fa altro che scrivere in output l'oggetto della classe b1 e b2 ha il suo costruttore eccolo qua vi ricordo che il costruttore è un metodo che ha lo stesso nome della classe e non residisce niente eccolo qua b2 è un costruttore senza altro come anche b1 scrive oggetto della classe b2 sono due costruttori nulla facenti scrivono in output una cosa interessante adesso la classe d la classe d è derivata da b1 e b2 fra l'altro con una cosa che vedremo domani che però l'esempio sto portando all'occhio che è una cosa che il linguaggio Java per esempio non consentirebbe e cioè che ci sia una classe d in questo caso che possa derivare da due classi invece che da una sola come se avessi due genitori b1 e b2 quindi deriva tutti i metodi attributi di b1 e tutti i metodi attributi di b2 questa derivazione multipla è una cosa che il c plus plus il quale adotta la filosofia del c dove tutto è possibile te la fa fare mentre invece i linguaggi più diciamo tipo il Java non te la fa fare perché è un'operazione problematica ma ne parliamo domani torniamo a bomba la classe d deriva da b1 e anche da b2 e c'è il suo costruttore che scrive oggetto della classe d derivata dalle classi b1 e b2 se adesso io scrivo d maiuscolo d1 punto e virgola sto definendo un oggetto d1 della classe d e quindi deve partire il costruttore di d1 ma se andiamo a vedere l'effetto potete fare la prova se avete il computer sotto mano l'effetto è che prima parte il costruttore di b1 poi parte il costruttore di b2 e poi parte il costruttore di d questo perché prima bisogna generare un oggetto della classe b1 poi bisogna generare un oggetto della classe b2 e poi si mettono insieme questi due oggetti ci si mette altra roba per fare l'oggetto della classe d cc nel senso che lo fa il compilatore tutto automatico se è chiaro anche questo concetto adesso andiamo a vedere come si fa il costruttore di una classe derivata ed è una cosa un po' articolata leggermente non molto adesso cerco di commentare la sintassi che spero si intuisca su in alto si capisce qualcosa allora abbiamo una classe derivata che si chiama clder classe derivata l'abbiamo definita adesso in questo caso in un'altra parte del codice stiamo andando a definire il costruttore di quella classe allora richiamiamo il nome della classe due punti due punti perché stiamo fuori dalla classe questo è più generico se stiamo dentro della classe non c'è bisogno di scrivere classe der due punti due punti ok poi andiamo proprio sul costruttore classe der stesso nome della classe nome della funzione lui bisogna che gli passiamo quando che lo andremo a chiamare sia i parametri suoi quelli specifici della classe derivata che anche quelli della classe base perché lui farà partire il costruttore della classe base e facendo partire il costruttore della classe base gli dovrà passare i parametri della classe base cioè definisce un oggetto della classe base il quale aveva dei parametri e gli devi passare e quindi il cliente della classe derivata deve passare al costruttore della classe derivata sia i parametri della classe derivata che i parametri della classe base tutti e due tutti quanti ci devono stare qui io ci ho messo questo più per intendere che virgola 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 perché quando genero un oggetto della classe derivata che per esempio ha un parametro suo come classe derivata ma ne eredita due della classe base io devo lanciare il costruttore dell'oggetto derivato passando di tre parametri il parametro suo e quelli dell'oggetto da cui lui deriva che sarebbero nella classe base quindi il costruttore deve avere i parametri suoi più quelli della classe base ripeto qui non c'è ovviamente questo più questo più ce l'ho messo io forse sbagliando ma sarebbero virgola 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 poi due punti e poi il costruttore della classe derivata deve far partire il costruttore della classe base cioè perché faccia tutto automaticamente bisogna che la specifica del costruttore della classe derivata sia scritta così cioè io faccio io costruttore della classe derivata faccio partire il costruttore della classe base e gli passo i parametri che stavano qui dentro della classe base in effetti può sembrare qui una ripetizione tanto potevo anche scriverli solo qui i parametri della classe base devi per forza scrivere tutte e due le parti mettiamoci l'anima in pace forse magari ci sarà una nuova versione del linguaggio in cui questo sarà eliminato ah beh ovviamente devono essere gli stessi se no il compilatore non te l'accetta però almeno concettualmente sì dai mi sono sbagliato a scrivere non ci metto più ci metto virgola così ma anche virgola forse virgola è più giusto però voi mi fate delle domande che mi verrebbe adesso voglia di fare delle prove indubbiamente sicuramente è così corretto e probabilmente hai ragione non potrei fare diversamente però un po' mi è venuto al dubbio comunque il concetto è chiaro spero allora il costruttore della classe derivata fa partire il costruttore della classe base e poi dopo deve ovviamente comunque fare quello del lavoro per se stesso cioè deve inizializzare i suoi parametri della classe derivata quello che farebbe un normale costruttore e poi sarà implementato il costruttore magari se non deve fare altro che inizializzare è vuoto questo qui il costruttore normalmente inizializzare e basta però se deve per esempio lanciare come abbiamo visto avanti ieri una funzione un metodo privato lo mettete qui dentro allora supponiamo vediamo se l'esempio qualche cosa chiarisce supponiamo punto 3d sia una classe derivata dalla classe punto allora io dovrei scrivere punto 3d lista parametri facciamo l'esempio ho punto che c'è il suo costruttore eccolo qui punto con xv yv valore di x e valore di y punto 3d che deriva pubblicamente da punto c'è come costruttore i due parametri il costruttore prende i due parametri della classe base che li passerà al costruttore della classe base più un terzo parametro di lui stesso e allora adesso facciamo un esempio con calma si vede non si vede ditemi quanto basta va bene allora supponiamo di stare in un contesto geometrico mi sono appuntato l'esempio che sta sul libro per seguire un esempio che potete trovare ci mettiamo in un contesto geometrico e stiamo sviluppando la nostra applicazione partiamo dal concetto di figura generica e quindi definiamo una classe figura e ci mettiamo dentro nella sezione pubblica il suo costruttore quindi deve avere lo stesso nome qui ci dovrebbero andare i parametri che sono caratteristici di tutte le figure che uno può pensare geometri che può pensare ce n'è proprio pochi in effetti l'esempio è proprio stringato serve proprio per è stringato perché serve per chiare i concetti un parametro che potrebbero avere in comune tutte quante le figure geometriche 2D è il baricentro perché non hanno lo stesso numero di lati non hanno allora ci mettiamo questo concetto qui che ce l'avranno tutti quanti che cosa due dati un sì va bene allora due coordinate se siamo in uno spazio da due dimensioni due coordinate che servono a specificare il baricentro di questa figura che poi quando che diventerà un cerchio o diventerà un quadrato eccetera si arricchirà di altri parametri e altre funzionalità per il momento un qualche cosa di essenziale perché chiaramente gli attributi e i metodi della classe base saranno stringati saranno essenziali e questo è il costruttore quindi dobbiamo a questo punto farlo lavorare però ancora non sappiamo quali sono i parametri gli attributi cioè i dati di questa classe quindi aspettiamo un attimo e poi dopo lo compileremo che cosa può fare come metodo questa classe base come metodo potrebbe avere questo qui un metodo che serve per stampare le coordinate di questo baricentro a fine esempio qualcuno ci deve dire una cosa se mi fate questa cortesia perché se no me ne dimentico grazie ricordatemi che vi devo dire una cosa dicevo questo qui non fa altro che stampare in output beh aspettiamo un attimo perché ancora qui non è chiaro perché se l'avessi messa prima la sezione privata era più semplice gli attributi privati di questa classe e qualcuno di voi potrebbe già cominciare a inquietarsi di quello che sto facendo saranno le coordinate le due coordinate di questo baricentro chiamiamola xc e yc le coordinate del centro della figura adesso cosa fa stampa centro ci ritorno mi stampa queste due coordinate e torniamo a questo punto al costruttore il quale viene chiamato con due parametri perché appunto adesso è chiaro dovrà utilizzare quei parametri per andare a valorizzare i suoi due attributi e quindi possiamo scrivere qui come abbiamo imparato a fare ieri due punti con la lista con la lista delle inizializzazioni e cioè il parametro xc prende come valore a e il parametro yc prende come valore b e poi cosa fa il costruttore oltre a aver inizializzato i suoi due parametri i suoi due attributi niente non fa nient'altro che questo non lancia nessun metodo privato mi sono definito la mia classe figura generica a questo punto potrei già cominciare ad utilizzarla cioè la do a uno che la usa per sviluppare il suo codice quindi qui è un altro programmatore che la usa e e che può fare beh innanzitutto dovrà definire un oggetto di quel tipo anzi scusate di quella classe un oggetto di quella classe non si può più dire oggetto di quel tipo oggetto di quella classe oppure variabili di quel tipo ci manca qualcosa? metto punto e virgola? posso far così? perché no? mancano i parametri da passare al costruttore prenderebbe quelli di default chiedo scusa posso anche scrivere così esatto grazie se non avessi messo quelli di default bravissimi non ho mai avuto una classe veramente brava come la vostra devo farvi complimenti sinceramente complimenti in effetti in questo esempio qui c'è i parametri di default potrei passare anche così se no se non ce l'avessi avuti tanto per capirci glielo avrei dovuti passare adesso qui se gliene passano solo che succede? godo allora glielo passo due e tre glieli faccio rimpiazzare tutte e due sia lo zero della A che lo zero della B rimpiazzati tutte e due rispettivamente da due e da tre quindi viene creato un oggetto che si chiama F e questo oggetto avrà come baricentro due e tre perché qui prenderà il due e lo metterà come valore a XC e qui prenderà il tre e lo metterà come valore a YC a questo punto io potrei dalla classe cliente dall'applicazione cliente invocare il metodo pubblico della classe figura c'è un metodo pubblico che si chiama stampa centro e se voglio lo posso far partire perché è pubblico se fosse stato nella sezione privata non l'avrei potuto far partire dal main lo posso quindi far partire e come faccio a farlo partire? che devo fare? o F punto gli devo passare i parametri a stampa centro? no non ha parametri stampa centro infatti non devi fare altro che un'istruzione di stampa potevo fare questo? quiz d'esame posso fare questo? perché? l'unico modo per stampare XC e anche YC è chiamare il metodo pubblico della classe della classe EF ok magari via fare un po' ok la salvo scusa niente di di nuovo siamo ad avanti ieri nessuna novità adesso io che sono quello che sta programmando le classi la mia azienda produce un nuovo codice riutilizzando il codice che già aveva prodotto nei giorni passati e quindi decide di programmare una nuova classe che la chiama cerchio nel programmare questa nuova classe non vuole ripartire da zero ma vuole utilizzare il codice già prodotto e quindi la concepisce come sottoclasse della classe figura perché dopo vari riflessioni si è capito che ogni oggetto di questa nuova classe sarà anche un oggetto della classe precedente che cosa potrebbe essere per esempio sto sviluppando un videogioco ho sviluppato ad esempio una classe che serve per rappresentare un personaggio del videogioco un non playing character per esempio e poi a un certo punto che potrebbe essere non so un uomo generico e poi non so sto programmando un videogioco nell'antica Roma avrò bisogno di programmare anche il gladiatore il senatore eccetera questi saranno che faranno non è che lo rifaccia da capo tutto il codice che mi è servito per sviluppare il pupazzetto che poi si muoverà con le funzioni e i metodi lo utilizzerò anche per il gladiatore anche per il senatore però il gladiatore sarà vestito in una certa maniera il senatore in un'altra maniera se non esiste un senatore che non è persona e se non esiste un gladiatore che non è persona a questo punto io riutilizzo la classe che già avevo ok adesso ovviamente non possiamo fare una cosa così complicata ne facciamo una semplice cerchio lo faccio derivare come lo faccio derivare pubblicamente o privatamente o protetto per non sbagliare facciamo così e allora così mi vado a definire una classe cerchio che deriva dalla classe figura e questa classe cerchio avrà un qualche cosa che la caratterizza in più rispetto alla classe generica figura il cerchio che c'è in più di una figura generica il raggio mi tocca a fare il costruttore chi lo scrive questo costruttore lo scrive me lo dettate voi allora si parte tranquillamente perché stiamo dentro la classe e quindi non dobbiamo specificare che la classe scriviamo subito il nome del costruttore che deve essere stesso nome della classe e quindi si deve chiamare cerchio poi che devo fa' gli devo passare i parametri che lui questo costruttore passerà al costruttore della classe base quindi però questo lo posso fare perché io sono la stessa persona la stessa azienda quindi lo sa com'è fatta la classe base non la sta utilizzando la classe base la sta ricopiando proprio il codice non è che la chiama quindi lo conosce com'è fatto il codice della classe base conoscendolo va a vedere i parametri quali sono e ce li mette qui e poi e poi il raggio questi sono i parametri che accetterà il costruttore della classe derivata poi che deve fare stava nella slide precedente il costruttore della classe derivata deve chiamare il costruttore della classe base e passargli i parametri suoi e quindi chiama il costruttore della classe base e gli passa i parametri che gli aspettano allora la risposta alla domanda sua adesso un attimo perché poi ragionando è qui il gioco chiaramente siccome i parametri sono nominati gli passi i parametri possono anche stare con ordine sparso chiaramente gli devi passare quelli che spettano la classe base e ovviamente però nel manuale poi della classe derivata ci devi scrivere l'ordine con cui vanno espressi i parametri chiaramente perché altrimenti l'utente della classe come fa a saperlo l'esempio di prima quale esempio sulla slide perché questo serve per passare i parametri quelli di prima non si passavano parametri questo qui serve per passare al costruttore della classe base i parametri che sono i suoi in questo caso dei tre xc e yc sono quelli che vanno alla classe base se no non serviva perché lo chiama automaticamente allora questo qui due dei tre parametri li passa alla classe base e il terzo che ci fa ci inizializza allora possiamo fare come volete o facciamo così però qua ci dobbiamo mettere oppure famo così è la stessa cosa per vedere un'altra nel corpo del costruttore facciamo un assegnamento e diamo al membro all'attributo privato raggio il valore r che verrà passato all'atto della divisione dell'oggetto cerchio è la stessa cosa oppure qui possiamo mettere virgola raggio e fra parentesi tonde r a questo punto però il il corpo del costruttore sarà vuoto vabbè dopo la seconda la faccio con l'altro modo tra ta tra tra ta qua ci manca un punto in virgola dove siamo siamo alla fine no adesso dobbiamo fare questo era il costruttore e adesso perché la cosa abbia un senso dobbiamo per fare un esempio che ci abbia un senso creiamo un metodo specifico della della classe derivata cioè adesso è totalmente specificato l'oggetto della classe derivata e in particolare quindi sappiamo il raggio e possiamo calcolare l'area e quindi facciamo un return e ho definito quindi una classe cerchio che deriva dalla classe figura qui siamo nella software house che produce le le classi adesso andiamo sulla software house che invece le usa quelle classi la userà questa 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 altra software house quella la classe cerchio per definire un oggetto della classe cerchio quindi come come faccio c posso non passare i parametri stavolta non posso non passagli perché il raggio non è definito per default quelli del centro eh vorrei la prova però se funziona non potremo per quello se l'avessimo messo all'inizio c'ho dei dubbi in ogni caso comunque adesso per pieno sbagliare gliele passiamo tutti e tre totalmente diverso 20 30 e il raggio 7 quindi ho definito un cerchio che a centro nelle coordinate 20 e 30 è il raggio 7 dopo di che allora oh calma un attimo posso io stampare le coordinate del centro del cerchio siamo a due terzi dell'esempio però adesso cominciano i problemi quindi ragionateci ragioniamoci posso io stampare innanzitutto si chiama c posso io far partire il metodo stampa centro del c c c ha un metodo stampa centro allora se vado a vedere il codice di cerchio c'è un oggetto della classe cerchio non vedo nessuno stampa centro non c'è però siccome qui vedo che eredita pubblicamente da figura io devo risalire in su andare a cercare la classe figura che forse sta in un altro file e andare a vedere se stampa centro sta nella classe figura e guarda che c'è e stampa centro vedo che non prende nessun parametro quindi vado a vedere se viene chiamato con un parametro no va bene ma lo eredita la classe cerchio il metodo stampa centro era un metodo pubblico è stato ereditato pubblicamente quindi il metodo che era pubblico con l'eredità pubblica rimane pubblico e quindi effettivamente lo posso usare quiz d'esame sarà stato questo questo è un classico quiz all'esame compila perché ovviamente se non potevo ereditarlo il compilatore me lo dice subito quindi queste cose sono un po' intricate però almeno c'è il vantaggio che appartengono alla sintassi e quindi il compilatore ce lo dice lui che dobbiamo correggere all'esame no non avete il compilatore per cui il compilatore lo dovete fare voi e quindi io posso farvi la domanda compila o non compila e voi mi dovete rispondere come se foste voi il compilatore capito esattamente il ragionamento che abbiamo fatto adesso dovete fare voi però quanto ci abbiamo messo ci abbiamo messo un minuto a farlo salviamo non lo so se compila posso partire il metodo area se voglio stampare l'area che posso fare del cerchio chiaramente che devo scrivere è qui ma che è allora il metodo area restituisce un float e quindi lo faccio partire restituisce un float va a finire qui non dovrebbero esserci problemi area del cerchio 153 954 adesso facciamo un altro esempio l'ultimo definiamo un'altra derivata quadrato che deriva pubblicamente da figura che cosa caratterizzerà il quadrato come abbiamo visto prima no quadrato è troppo semplice il rettangolo è caratterizzato da due lati per forza bisogna metterci lì e quindi come attributi privati ci avrà la dimensione dei due lati dobbiamo fare adesso il costruttore se lo voglio fare come derivato bisogna che passo come prima grazie a tutti l1 facciamo quell'altro sistema prende il valore da A e l2 prende il valore da B a questo punto il corpo del costruttore può essere vuoto bene poi l'area posso dare a una derivata come metodo un nome utilizzato anche da un'altra derivata perché sì perché no Grazie mille. No, perché io la geometria è una cinquantina d'anni che non la faccio più. Questo qui, se A e B sono due lati del rettangolo e passo anche le coordinate del centro, che specifico proprio il rettangolo? No, non specifico perché se voglio sapere dove sta proprio, che cosa gli dovrò passare oltre al centro? Non ce la faccio, specificare un rettangolo con soli quattro parametri. Però con soli quattro parametri posso specificare nello spazio un quadrato, le due coordinate del centro e due coordinate di un qualunque suo vertice. Giusto? Buonanotte. È un quadrato, quindi se io do le coordinate del centro e del quadrato e le coordinate di un vertice, sto specificando la posizione del quadrato nel piano cartesiano. Allora, a questo punto, l'area effettivamente è un po' complicatuccia perché devo fare... Lo scrivo veloce, poi voi vedete se sto scrivendo, me lo sono andato a puntare. Mi stavo a sbagliare. Andiamo lì dei nomi giusti perché quello non era il lato, era il vertice. Ok. Scusate. Gli do praticamente le coordinate x con 1 e y con 1 di un suo vertice. A questo punto vado a fare la differenza tra x con 1 e x c. Quindi vado a fare la differenza tra y con 1 e c. Poi faccio return 2 per A per A più B per B. Ci ho messo un po', ma dovremmo essere arrivati alla fine del metodo per calcolare l'area. Allora, questa è l'area di un quadrato che ha centro yc, xc, yc e un vertice in x con 1 e y con 1. Io gli passo le coordinate del centro e di uno dei suoi vertici e mi restituisce l'area. Ho usato i concetti che abbiamo appena visto. Vediamo se compila. Dimmi, dimmi. Grazie. Va bene anche per un rettangolo? Bravo. Perché io se do il centro e un lato e un vertice definisco anche un rettangolo? No. Sì. Definisco un qualunque rettangolo, eventualmente anche un quadrato. Un quadrilatero. Bravo. Un quadrilatero. Ripassi di geometria. C'è qualche problema? Chi è che è in grado di capire il problema? E perché con cerchio non ci ha dato problemi? Perché non lo so. Perché non lo so. E se siete così bravi che mi potrei pure quasi commuove. Voi adesso che fate qua? Se ce la faccio abbassare sto cazzo qui. che fate? Sta facendo impazzire e sto a fare. Avete capito? Come si risolve sto problema? XC e YC sono privati. Dentro la classe quadrato che deriva da figura vado a chiamarli. Ma li posso chiamare se sono privati? No. Anche se l'ereditarietà è pubblica. E quindi finalmente, a conclusione della lezione di oggi, capiamo a cosa serviva la specifica d'accesso protetta che abbiamo visto avanti ieri. Ecco a cosa serve. Dobbiamo andare qui e questo private farlo diventare protected. Così facendo, ereditando in maniera pubblica, la classe quadrato, a questo punto lo chiamiamo quadrilatero, la classe quadrilatero me lo può ereditare. Cioè ci può accedere perché l'attributo XC e l'attributo YC, gli attributi C e YC, vengono ereditati da quadrilatero, ma non saranno privati, ma protetti perché l'ereditarietà è pubblica. In ogni caso saranno accessibili al cliente della classe quadrilatero. Quindi io a questo punto, veramente ancora non ho fatto niente che la utilizzi, io posso definire un oggetto quadrilatero, gli passo quattro parametri. lo chiamo non C, lo chiamo Q. Stampa centro non dovrebbe avere problemi, perché non ce l'aveva neanche prima, perché il metodo stampa centro viene ereditato anche da quadrilatero. Dobbiamo vedere se abbiamo fatto casino qui. e pare di no. Proviamo. Compilato, compilato. Ora vediamo cosa fa. 1588. Sarà vero? Sarà falso? Pare un po' tanto. C'è qualche imperfezione sull'area. Vabbè, allora praticamente mi boccio come per geometria, però la programmazione ha funzionato. La geometria non ha funzionato, ma la programmazione ha funzionato e quindi, se sapete fare questo esercizio, chiaramente siete tutti promossi all'esame di fondamenti di informatica. Era uno degli esercizi più... Questo è solamente di teoria, ci poteva stare solamente nella teoria un quiz del genere, e sostanzialmente chiude la parte, diciamo così, di programmazione in C. Noi domani vediamo un ultimo concetto, sempre che è dell'Object Oriente Programming, che è l'eritarietà multipla, di cui abbiamo detto qualche cosa poco fa, ma soprattutto il concetto di polimorfismo. Con quello chiudiamo un pochino la teoria. La settimana prossima, che ancora è lezione, no? E la dedichiamo a prove, e vi farò vedere anche altre cose che sono abbastanza divertenti. Ah, grazie. Siete proprio bravi. Dunque, che cosa succede? Questo, guardate qui, area, sia in cerchio che in quadrilatero, questo metodo area, che cosa fa? Va a cambiare gli attributi dell'oggetto, rispettivamente cerchio, e dell'oggetto quadrilatero? No. Non li va a cambiare. Allora, supponiamo che un utente della vostra classe decida, per esempio, di creare un oggetto cerchio costante. si può fare. Come quando facciamo const int x, x sarebbe stato costante, adesso possiamo fare const cerchio c. C è un oggetto della classe cerchio, con due coordinate per il raggio, per il centro, un raggio costante, nel senso che l'applicazione, adesso, c, non dovrà andarlo a modificare, perché sarà una costante. L'applicazione. Stiamo sul lato dell'applicazione adesso. Main. Non sarebbe male consentire al compilatore che andrà a compilare il main di accorgersi se l'utente della classe, dopo aver definito un oggetto cerchio di tipo costante, poi invece va a fare delle modifiche su xc e yc, con altri metodi. Perché la classe cerchio potrebbe avere altri metodi, qui non ci sono, in effetti, metodi che lo vanno a modificare, ma io potrei avere un metodo sposta, che mi sposta alle coordinate del cerchio da, per esempio, a destra, di tot. Non l'ho fatto, ma potrei averlo, no? Ma se definisco un oggetto C di tipo cerchio come costante, il metodo sposta cerchio non deve partire. Ma come fa il compilatore a sapere quali metodi della classe cerchio li può utilizzare su un oggetto cerchio definito come costante dall'utente e quali altri metodi invece non li può usare perché vanno a modificare? Il compilatore così non se ne accorge perché non sa distinguere fra il metodo area e il metodo sposta dentro la classe cerchio. a meno che voi non fate così. Qui dopo area ci scrivete const così facendo consentite al compilatore che andrà a compilare il main di accorgersi di accorgersi che il metodo area dell'oggetto C lo può utilizzare perché il metodo area non va a modificare XC e YC. Il metodo sposta che non abbiamo dentro la classe cerchio invece non lo può utilizzare. Dovrebbe dare errore se l'utente supponiamo che noi avessimo sposta cerchio e allora io facessi C sposta di 10 D che significa a destra supponiamo che io abbia fatto un metodo sposta che sposta di 10 a destra sull'oggetto C definito dall'applicazione come costante questo non lo potrebbe fare. Ma può fare invece questa perché quella pure stampa centro pure lo sta stampa centro stampa centro addirittura la posso fare qua su nella classe base perché pure stampa non modifica i valori e quindi posso fare in particolare però qui posso fare C.area posso usare il metodo area dell'oggetto C non potrei usare il metodo sposta dell'oggetto C perché l'oggetto C è definito come costante con questo mettendo questo cost qui questa è programmazione veramente siamo un pochetto avanti proprio bene grazie di questa memo che mi avete fatto la lezione di oggi si chiude qui domani parliamo di polimorfismo e chiudiamo a parlare delle classi la settimana prossima tutte applicazioni basate su giochi di polimorfismo di polimorfismo di polimorfismo di polimorfismo di polimorfismo di polimorfismo